CASA EXPERT Luca, oggi vi presento uno dei prodotti che fanno parte del nostro volantino, è un Samsung AU8070, un 55 pollici che puoi vedere alle mie spalle, è un'edizione 2021, un 4K Ultra HD, è decisamente un gran bel prodotto, oltre che per quanto riguarda il processore, anche in termini di design potrai vedere, è caratterizzato da un bordo molto molto sottile, che è una delle caratteristiche del 2021, oltre a dei piedini che sono regolabili in altezza, ed ha un'altra caratteristica molto molto importante, che per chi sta facendo smart working in questo periodo, che è una delle cose più diffuse in questo momento, ha la possibilità di collegare una webcam, quindi fare videoconferenze, insomma tutto quello che riguarda lo smart working può essere supportato da un prodotto di questo tipo, il prezzo è di soli 499 euro. Oh mamma mia, e conviene, conviene, anche perché voglio ricordare a tutti gli amici del vostro gruppo, e lo faccio io con grande piacere, che sia prolungata anche questa offerta, secondo la quale chi spenderà oltre 50 euro avrà una cartolina, per ogni 50 euro spesi ci sarà una cartolina da grattare con la quale potranno vincere ricchi premi e quotidiano. Assolutamente sì, si può vincere tranquillamente auricolari, soundbar e televisori per un valore fino a 2500 euro. Fantastico amici. Nel caso di questi prodotti Samsung oppure LG, addirittura le cartoline si raddoppiano. Guarda il logo, ragazzi, ricordatevi che su tantissimi altri prodotti, fino a domenica c'è un grande sottocosto che Luca sempre vi consiglia di andare a valutare, ricordandovi anche, perché ormai faccio parte di questa famiglia expert, che ovviamente comprate oggi e pagate tra un bel po' di tempo. Quando è che sa come ci appavate? È importante ricordare anche questo, è ottobre, è dicembre, facciamolo, facciamolo perché i sordi ci servono per i vacanze, noi ci amiamo a fumare, capite Alessandro? È così, è così. Senti, ricordiamo gli amici a Fuoricrotta, precisamente dove vi trovate? Noi ci troviamo in via Girocesare 21-24, ovviamente aspettiamo te e tutti i nostri amici radioascoltatori, in modo da poter insomma prendere un caffè insieme e guardare insomma tutti i prodotti del nostro interessante volantino. Sarà per me un grande piacere, ti ringrazio, ti salutiamo e salutiamo tutti gli amici del gruppo Expert Campania, la mia casa, Casa Expert e soprattutto voi che vi trovate in quel di Fuoricrotta. Buona giornata ragazzi! Grazie mille Luca, buona giornata a tutti! Ciao, 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 ciao!